Veramente la nostra grandissima possibilità tutti i giorni è quella di dare del nostro meglio, essere veramente concentrati sulla nostra vita e dare del nostro meglio, gioire e godere della vita in ogni momento, attraverso la nostra esperienza, attraverso il nostro esempio, attraverso quello che decidiamo di portare nel mondo ogni giorno, attraverso quello che decidiamo di diventare ogni giorno, quello che decidiamo di essere. Veramente possiamo fare tantissimo, essere motori di quaggione e di cambiamento e questo è veramente la chiave per risanare questo mondo, essere semplicemente se stessi, avere molta compassione verso di sé innanzitutto, avere pazienza, avere amore verso se stessi, viversi, godersi pienamente la propria esistenza, accettarsi e affrontare questo viaggio attraverso la vita con molta fiducia e con grandissima gioia nella comprensione che tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che noi viviamo, tutto ciò che noi sperimentiamo fa parte di un percorso che può portarci soltanto verso la bellezza e verso il meglio. Quale che sia il momento di difficoltà che stiamo vivendo, possiamo sempre guardare le cose in modo diverso e concentrarci nella soluzione. Nel momento in cui noi cambiamo modo di pensare, modo di vivere le cose, in modo di essere soprattutto, automaticamente la nostra realtà cambia e cambiando la nostra realtà ovviamente il nostro mondo, il mondo circostante cambia in conseguenza. Imparare a creare attraverso il cuore, essere creatori attraverso il cuore, non attraverso la mente e imparare a vivere se stessi, a godere pienamente di tutte le nostre grandissime ricchezze, nella nostra bellezza, quale che sia, possiamo sempre raggiungere un livello di amore maggiore, verso noi stessi, verso la vita in generale. Il nostro compito qui è camminare su questo mondo, con i nostri piedi, respirare l'aria con i nostri polmoni e vivere esseri che benedicono la vita, essere custodi dell'esistenza in qualche modo. E così facendo cambiare questo pianeta e farlo diventare un pianeta di luce. Non è richiesto veramente nient'altro se non vivere pienamente l'esperienza di se stessi. Vivendo l'esperienza di se stessi si comincia a conoscersi e conoscendosi si scoprono quei lati che necessitano del nostro amore. Perché quando noi parliamo di zone d'ombra, quando noi parliamo di zone d'ombra, noi parliamo di zone che necessitano la nostra attenzione e il nostro amore. Raggiungendo queste comprensioni attraverso il diversi, attraverso il concedersi ciò che ci fa stare bene, attraverso il concederci il tempo e la possibilità, la grande possibilità di guarirci. Perché noi più delle volte siamo i responsabili della nostra non guarigione, ci tratteniamo all'interno di modelli che non funzionano. Quindi concedendoci questa possibilità e divenendo consapevoli di quelle che sono le zone che richiedono oggi il nostro amore, la nostra attenzione, possiamo fare veramente un lavoro meraviglioso. E quindi voglio concludere questo messaggio notturno che ho sentito di dover registrare dicendovi grazie, grazie di essere la vita, grazie di essere qui a aiutare me e tutti insieme a trasformare questo mondo e soprattutto amatevi, conoscetevi, cioè vogliatevi bene e vivete pienamente la vostra esperienza con tutti gli alti, con tutti i bassi, con tutte le fluttuazioni che la vita comporta e con le alzate e le discese. Ma non importa. Possiamo sempre raggiungere un livello di amore maggiore. Il viaggio verso la nostra essenza, verso la sorgente, verso il tutto è veramente infinito e vale la pena viverlo, viverlo esattamente per quello che è. Un bacio a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie.